Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, come altri sindaci delle città italiane, ha consigliato la guida agli acquisti nei negozi del territorio, cercando di evitare il più possibile gli acquisti online. Acquisto nei negozi sicuramente, sicuramente, perché hanno bisogno di noi, Pistoia ha bisogno di noi. Online, online, negozi balza, troppo covid, ce n'è parecchio, online tutto più veloce. Vedo tanti sacchettini, quindi voi seguite i consigli dei sindaci di fare acquisti nei negozi? Sì, certo, è importante andare nei negozi cucini per aiutarli. Sicuramente sì, anche perché a noi ci piace il contatto con le commesse, ci piace vedere la roba, toccarla, valutarla. E online si è presso anche delle fregature, quindi meglio negozi e poi chiaramente c'è l'aiuto economico alla città e a paesi, se uno sta nel paese. Negozio, negozio, acquisto un negozio. Penso negozio, sicuramente negozio. Negozio! Ma ci toccherà fare tanto online, però proviamoci, danno i negozi. Fare shopping soprattutto per le donne è comunque un gusto in più. Certamente sì, anche per gli uomini, infatti spero che quest'anno qualche uomo vi porti qualche bel regalino, vai! Sì, il negozio, sicuramente. Cerco anzi di fargli gli acquisti per favorire i negozianti che hanno riaperto ora. No, no, nei negozi, sì, nei negozi, non so neanche comprare online. Mi piace vedere dal vivo le cose. Io tra l'altro non ho nemmeno il computer, non ho niente, io sono contraria a queste cose. Questo nel paese non si regala niente a nessuno perché non ci sono soldi. Niente, li porta Babbo Natale quest'anno.